ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video e allora oggi unboxiamo aveva un po di tempo che aveva abbandonato gli unboxing ma ritorniamo e allora ho acquistato un paio di cose queste sono le prime cose che mi sono arrivate iniziamo dal primo andiamo da questo 1 2 amo amazon perché è velocissimo esatto questo ragazzi e allora vi spiego in pote parole ho avuto un problema con mio cordless telefono cordless monta delle batterie mini stile si scaricano durano poco sono quelle originali non mi ricordo se sono sony o comunque durano pochissimo ho cercato online ho trovato questo modello e lo portano davvero davvero bene e allora abbiamo le cartoline ok e abbiamo stilo ricaricabili cavetto 220 standard questo qui connettore questo qui e abbiamo lui carica batterie multiplo eccolo qui con una due tre quattro cinque sei sette otto posizioni cioè otto slot per otto batterie questo ricarica sia pile stilo che mini mini stilo scatolino ok queste invece sono le stilo perché ovviamente c'ero ho preso anche due confezioni di stilo anzi no ho preso quattro confezioni di stilo perché perché ho altri telecomandi a cui voglio andare a sostituire queste batterie che ragazzi non sono batterie agli ioni di litio attenzione tutte le stilo e mini stilo che ci sono in commercio sono tutte normali perfetto questo uno ok passiamo al secondo pacchetto perfetto perfetto ed è uno ed è due via e abbiamo allora ho preso quattro confezioni di stilo che sono quelle più comunemente utilizzate dai telecomandi dalle sveglie e due confezioni di mini stilo allora nella insieme al caricabatterie ti danno anche le stilo due confezioni e queste le ho prese extra mini stilo mini stilo mini stilo stilo più altre due in confezione col caricabatterie abbiamo detto carica batterie duale cioè che le ricarica entrambe andiamo a prenderle in mano questa è una mini stilo eccola qui ragazzi il peso il peso c'è perciò in teoria potrebbe anche essere di buona qualità o meglio potrebbe la portano di buona qualità tutte le recensioni su amazon che ho letto specificavano che duravano che sono affidabili eccetera eccetera questo è il mini stilo hanno capacità di mille e cento miglia per ora invece le stilo anno andiamo a levare il sigillo che chiude il nostro pacchettino perfetto le stilo a a hanno 2008 milliam per ora come capacità e quattro pezzi ogni blister niente ragazzi devo andarli a provare con i miei tester vediamo se effettivamente hanno queste capacità se vuoi ti metto sotto i link così da andarli ad acquistare se ti interessa il caricabatterie a parte negativa parte positiva parte negativa a doppio contatto contatto basso e alto alto e per queste per le stilo basso e per le mie stilo si vanno a posizionare così uno ok che fa la botta andiamo a mettere il secondo ok andiamo a mettere il terzo può ricaricare diciamo entrambe le tipologie mettiamo questo qui questo è il cavo direte circa un metro come lunghezza questo va al caricabatterie qui perfetto questo invece va alla rete elettrica ragazzi come sicuramente già hai visto anche due porte usb porto usb per la ricarica di smartphone lettore mp3 fotocamere videocamere due potenze quella sopra media potenza quella sotto alta potenza cioè due camper caratteristiche tecniche perciò può ricaricare 246 8 a a a a a a a a al ovviamente parliamo di michel metrano itruro come chimica oppure nickel cadmio sempre devono essere batterie ricaricabili non andate a inserire batterie non ricaricabili dentro qualsiasi caricabatterie perché ragazzi esplodono alimentazione 100 240 volt per quanto riguarda le usb 5 volt di uscita ovviamente 3.1 ampere massimo perciò era come ti dicevo io una usb da una ampere l'altra usb da due ampere andiamo ad aprire l'ultimo pacchetto già nella realtà questo ragazzi l'ho aperto perché perché avevo bisogno di uno di loro per un lavoretto questo ragazzi cosa sono questi sono delle colle per pistola a caldo colore nero ne avevo un centinaio mi sono finiti erano davvero forti davvero collaggio resistente anche per uso esterno speriamo che questi siano uguali sempre presi su amazon lunghezza erano i più lunghi che c'erano su amazon 20 24 per giù e un centimetro è qualcosa come diametro rapporto qualità prezzo ho fatto una ricerca anche su aliexpress su ebay ovunque gli unici che mi sono diciamo convenuti valutando anche le tempistiche che erano urgenti sono stati questi su aliexpress c'erano però erano più piccoli la metà anche come come lunghezza i prezzi erano liberi cioè io qui ce li ho più lunghi mi sono arrivati in meno tempo ti lascio i link in descrizione sia delle batterie ebl brand il caricabatterie sempre ebl come brand li metto subito a caricare poi li testo con la mia strumentazione metto a fine video i risultati del est ripeto che le stilo vengono riportati da 2008 le mini stilo vengono riportate 1000 e 100 miglia per ora vediamo i test cosa dicono li misuriamo e poi ti faccio sapere ciao ragazzi al prossimo video ciao 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 ciao